Conferenza stampa di presentazione a Camerino per questo appuntamento natalizio e non solo, anche tutti gli altri appuntamenti, la presenza dell'amministrazione comunale e del sindaco Gianluca Paschi. Iniziamo dall'evento di giovedì 22, tutti insieme inaspettatamente, sindaco, inaspettatamente bisogna anche velocemente ripartire. Sì, tutti insieme inaspettatamente è una frase che mi ha colpito e ho apprezzato subito perché inaspettatamente siamo qui a parlare di un momento e di auguri che nessuno di noi qualche mese fa avrebbe immaginato. È altrettanto vero però che non è inaspettatamente, anzi abbiamo delle certezze che sono quelle di una città che è già ripartita, è ripartita dalle sue istituzioni, è ripartita dalla sua università, dalle sue scuole, dal suo ospedale e quindi che ha di certo la forza e la volontà di guardare lontano come d'altra parte prima di questo brutto momento, di questo brutto terremoto. Questo è un evento che abbiamo fortemente voluto come amministrazione perché vuole essere un caloroso abbraccio ai nostri concittadini e a quanti volendo bene al territorio, e mi riferisco ai volontari, o rispettando anche il loro ruolo, cioè le istituzioni, stanno aiutando l'amministrazione e quindi la nostra gente a percorrere di certo una strada non facile ma di certo che avrà un traguardo raggiungibile che è la ricostruzione e anche il vedere i nostri concittadini di nuovo, ognuno nei loro ruoli, ripartire in maniera reale. Ecco, Sindaco, lei era facile per questo Natale tirare il rima in barca, pensare alla ricostruzione e magari accantonare un po' la parte, diciamo, quella proprio del saluto, dell'affetto, del calore. Una cosa che, forse a differenza di tante altre amministrazioni, lei ha voluto proprio fare questo riavvicinamento anche con i cittadini vostri, i camerti, che sono al mare per questo evento importante. Beh, io sono chiamato ad un ruolo molto difficile, quello di essere Sindaco nella fase di un terremoto, quindi della gestione dell'emergenza e anche della ricostruzione, insieme, ripeto, alla mia squadra. E quindi ho bisogno del calore e della vicinanza dei miei concittadini, ho bisogno di sentire l'abbraccio della mia gente e grazie a questo abbraccio diventa più facile un percorso di per sé molto difficile. Quindi è un'iniezione che io chiedo, sto chiedendo quotidianamente aiuto, sostegno, sottolineando come il Sindaco non è nient'altro che una persona che vive in questa terra, di questa città, con le problematiche di tutti i concittadini. E quindi ha bisogno del suo popolo, della sua gente per poter traghettare e tenere un timone che ritengo di tenere fermo, saldo, ma ogni giorno, siccome il Sindaco di Camerino sbaglia anche, ha bisogno di chi corregge il tiro e di una vicinanza reale ed umana. Ci voglio ricordare i nomi degli ospiti che ci saranno, perché la serata e il pomeriggio saranno divisi un po' in due parti, la prima quella del saluto, dell'abbraccio, del riconoscimento e poi lo spettacolo con la Iena Andrea Gresti e con la sua band. Ma ci saranno anche dei personaggi che verranno un po' a presenziare questo appuntamento, evento che lei fortemente ha voluto in prima persona. Le prime conferme certe sono quelle del commissario Errani, dell'ingegnere Curcio, quindi la protezione civile, il presidente della nostra regione, Luca Cericioli, il ministro Costa e poi siamo ancora in attesa di altre conferme. Spero però di avere tutti i rappresentanti di quelle istituzioni volontarie e di volontariato che hanno dimostrato un grande affetto e che la macchina Italia, quando c'è necessità e nei momenti del bisogno, esiste ed esiste con tutto il cuore.